Industria retina, export in aumento, ma il manifatturiero subisce l'ennesima battuta d'arresto. Simmetrie Festival, il comune di Arezzo dà l'ok, ma non i finanziamenti, confermati De Gregorio e Blu Vertigo. Gli attori speciali della Potipictures a scuola di integrazione con il progetto a tutto cinema. La leggenda della vera croce arriva a Milano, Expo dedica un omaggio culturale a Piero della Francesca. 60 giovani musicisti da tutto il mondo per la quarta edizione del Masterclass. Nuovo appuntamento con l'informazione su TSD in apertura di questa nostra edizione la pagina della cronaca. Grave incidente sul lavoro a Pop in località Porrena. L'episodio è avvenuto questo pomeriggio in una zona industriale. Durante le operazioni di scarico da un camion, un autista di 47 anni, SM Le Iniziali, è stato colpito alla testa dalla sponda del tir. L'uomo, residente a Castel San Nicolò, ha riportato un trauma cranico commotivo. soccorso dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Careggi di Firenze. E rimaniamo ancora sulla pagina della cronaca perché una donna di 78 anni, LV Le Iniziali, è stata investita da un furgone a Camucia. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11.50. Il mezzo stava facendo manovra sul piazzale antistante il supermercato del paese quando ha colpito la donna residente a Camucia. Nell'impatto, la 78 anni ha riportato un trauma cranico commotivo con sospetta frattura alla base cranica. L'anziana signora, non cosciente, è stata stabilizzata sul posto dai sanitari del 118 per poi essere trasferita con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Lescotte di Siena. E veniamo adesso all'industria aretina con l'export in aumento ma il manifatturiero subisce l'ennesima battuta d'arresto. I dati di Confindustria e Camera di Commercio. L'export si conferma all'ancora di salvezza per l'industria aretina segnando un più 8,3% nel primo trimestre 2015 rispetto all'anno precedente. A dirlo sono i dati dell'osservatorio congiunto Camera di Commercio Confindustria sulle imprese manifatturiere con più di 10 addetti. Nei primi tre mesi dell'anno il comparto aretino registra ancora una battuta di arresto. La produzione è infatti calata del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A soffrire meno solo le aziende più grandi che hanno maggiore accesso ai mercati esteri. Sono questi ultimi gli unici con segno positivo, anche se solo dello 0,1% nei dati sul fatturato che complessivamente registra una flessione di due punti. In sofferenza anche la domanda con un calo generale del 3% e dell'1,5% per i mercati internazionali. Positivi i dati sull'occupazione che registra un più 1,1% rispetto al primo trimestre 2014. Cala la produzione nei settori della gioielleria, tessile e abbigliamento, pelletteria, calzature ed elettronica. Cresce invece di quasi 6 punti la produzione per macchinari e mezzi di trasporto e per il legno mobilio. Per quanto riguarda l'export sono invece proprio i settori dei metalli preziosi e della gioielleria a farla da padrone. Tuttavia, mentre i primi segnano un più 24,3%, i secondi registrano una flessione del 14,4% rispetto ai primi tre mesi del 2014, subendo l'influenza del prezzo dell'oro. Migliori i risultati per il settore moda, che aumenta di quasi 25 punti percentuali, le esportazioni all'estero. Continua il buon andamento dell'industria alimentare, mentre resta in flessione l'export di bevande e quindi del vino. In aumento le esportazioni di apparecchiature elettriche, prodotti in metallo, macchinari, mezzi di trasporto e mobili. Siamo ancora lontani dal poter parlare effettivamente di ripresa, commenta il presidente di Confindustria Toscana Sud, Andrea Fabianelli, che sottolinea la preoccupazione per la flessione della domanda. A suo parere, la crescita dell'occupazione è la conseguenza del Jobs Act. Un segnale positivo da parte delle aziende, secondo il presidente della Camera di Commercio di Arezzo, Andrea Sereni, che ipotizza per i prossimi mesi un ritorno della ripresa, anche se su tassi ancora troppo bassi. Secondo il numero uno di via Spallanzani è quanto mai necessaria una maggiore azione riformatrice del governo e del Parlamento, ad iniziare dalla semplificazione burocratica e da quella fiscale. Primo incontro istituzionale tra il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli per mettere a punto l'agenda delle azioni utili alla viabilità e al sistema infrastrutturale che interessa il capoluogo Aretino. Si è parlato dunque di due mari, della stazione Medio Etruria, del raccordo autostradale del Museo dell'Oro, l'aeroporto e la viabilità dell'area Lebole, tema sul quale Ghinelli avrà mercoledì a Firenze un incontro con Anas. Il confronto con l'assessore Ceccarelli e quindi con la regione toscana proseguirà nelle prossime settimane entrando nel merito degli argomenti che sono stati congiuntamente individuati come prioritari. Riparte la mobilitazione regionale contro il piano di razionalizzazione di poste italiane che prevede la chiusura di 59 uffici postali su 65 in tutte le aree montane e rurali. Regione Toscana, Anci e Uncem hanno raccolto l'allarme dei sindaci per la conferma di un piano di tagli che, decisi in maniera unilaterale, rischiano di colpire i cittadini che vivono in frazioni disagiate. L'azione coordinata proseguirà sia sul piano legale, con nuovi ricorsi al TAR da parte dei comuni che lo vorranno, sia sul piano politico. La regione contatterà i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Luca Lotti allo sviluppo economico con delega alle comunicazioni Antonello Giacomelli sollecitando un incontro in tempi brevi. Saranno coinvolti anche i parlamentari toscani e verrà chiesto un incontro con l'amministratore delegato di poste italiane. Simmetrie Festival, il comune di Arezzo dà l'ok ma non i finanziamenti, confermati De Gregori e Blu Vertigo. Un unico evento estivo che diventi volano di turismo, valorizzazione di arte, cultura e tipicità. Questo è il Link Festival 2015, una manifestazione nata dalla sinergia tra i tanti operatori culturali del territorio. All'interno del grande contenitore è confermato il Simmetrie Festival che sembrava a rischio con il cambio di amministrazione. La nuova giunta sosterrà l'evento ma non contribuirà alle spese per la realizzazione. Da parte nostra ovviamente il patrocino, ovviamente tutto il supporto strumentale, ovviamente nessuna preclusione a che le partecipate possano dare la loro disponibilità finanziaria. C'è comunque sia da rifare un po' i conti perché alcuni conti precedentemente fatti non erano conti razionalmente sostenibili perché si faceva riferimento a un contributo del comune di Arezzo su cui non c'è traccia nei bilanci. Questo non lo possiamo fare, tutto il resto lo faremo e vedrete che verrà bene. Ma se vengono confermati grandi nomi De Gregori e Blu Vertigo in primis, il taglio al budget influirà pesantemente sul progetto complessivo del festival. La restrizione dei finanziamenti e anche le tempistiche che si sono create, hanno creato proprio dei problemi pratici, tecnici, temporali per poter sviluppare il progetto soprattutto nella direzione di un notevole maggior coinvolgimento delle associazioni aretine. Abbiamo lavorato una quindicina di progetti dei quali purtroppo pochi verranno salvati per questa edizione, proveremo a ripartire e ripresentarli a settembre all'amministrazione se il progetto piacerà. Difficoltà che si ritrovano a livello provinciale a causa della mancata nomina di un assessore regionale alla cultura nella nuova giunta di Enrico Rossi, una precarietà che danneggia l'indotto culturale e turistico del territorio. Ancora ad oggi siamo in attesa di capire quando arriveranno e quanti saranno i finanziamenti del piano della cultura. Un piano che voglio ricordare va a finanziare attività sia legate ai festival che legate alle biblioteche che ai musei. Due giorni di celebrazioni per commemorare il 71esimo anniversario dell'ecidio di San Polo e della liberazione di Arezzo. Domani, martedì 14 luglio alle 18, le istituzioni presenzieranno alla deposizione delle corone di alloro a Villa Gigliosi, al Cippo e al monumento ai caduti. Quindi Don Natale Gabrielli celebrerà la messa al santuario della Madonna del Giuncheto. Giovedì 16 luglio sarà invece la città ad essere protagonista delle commemorazioni con la deposizione delle corone di alloro al monumento sito all'ingresso del cimitero, al sacrario dei caduti di via dell'anfiteatro e al monumento alla resistenza appoggio del sole. Al cimitero del Commonwealth a indicatore verranno ricordati 1.267 caduti degli eserciti alleati. Chiusura con un momento di preghiera ufficiato da Don Santi Chioccioli. E veniamo adesso agli attori speciali della Poti Pictures, a scuola di integrazione con il progetto A Tutto Cinema. Un progetto formativo dall'alto valore sociale e didattico che si inserisce in un contesto ludico strutturato che fa del cinema il minimo comune denominatore. È la nuova avventura che vede ancora una volta sotto i riflettori lo staff della Poti Pictures, realtà cinematografica retina impegnata nella realizzazione di pellicole sociali. Obiettivo finale di A Tutto Cinema sarà la realizzazione di un cortometraggio che durante le fasi di realizzazione vedrà lavorare spalla a spalla i bambini del convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo e gli attori speciali della Poti Pictures. Abbiamo proposto un percorso di teatro proprio ideotico al cinema, sotto forma di gioco ovviamente, per imparare a stare davanti alla macchina da presa e comunque relazionarsi per andare poi a girare un cortometraggio nell'anno nuovo da presentare a concorsi magari tipo il Giffoni. In questo percorso la vera novità è che integreremo con i nostri ragazzi proprio per fare un making of su quello che può essere l'inclusione proprio con i bambini, tra i bambini e i ragazzi con disabilità. Tra i partner coinvolti nel percorso di A Tutto Cinema anche i promotori di Wikidaze, l'esperienza multidisciplinare interamente dedicata al mondo dei bambini e degli adolescenti che tra le varie iniziative aveva promosso a livello regionale Wicked Number One, un progetto concorso di storytelling per le scuole elementari e medie. Innovativa anche la modalità scelta dalla Poti Pictures per sostenere la ricerca e la raccolta fondi. La realtà guidata dal regista Bonarini ha infatti deciso di puntare sulla formula del microfinanziamento collettivo e a partire da mercoledì 15 luglio all'indirizzo mecenap.it portale di crowdfunding della Toscana sarà possibile partecipare attivamente alla realizzazione di A Tutto Cinema. La nuova sfida che attende la Poti Pictures permetterà ai ragazzi con disabilità di essere retribuiti per il loro lavoro di attori. Il tutto si inserisce all'interno di un processo di crescita della piccola casa cinematografica retina divenuta ufficialmente ramo d'azienda della cooperativa sociale Il Cenacolo, contesto lavorativo con più di 50 dipendenti di cui oltre la metà con disabilità. Intanto Bonarini e Inco sbarcano sul web con un sito potipictures.com dedicato alle proprie produzioni. C'è tempo fino al 27 luglio per votare online a favore di AVAD, l'associazione volontari assistenza domiciliare che partecipa al bando ACLI 5x1000 con il progetto Fare, Fare Bene, Farlo Sapere. Il percorso intende migliorare la comunicazione nei confronti dei cittadini e delle istituzioni per sensibilizzare, informare, diffondere e condividere le attività dell'associazione attraverso incontri, seminari di approfondimento sui temi della solidarietà, la cura e la dignità della persona malata. Per sostenere AVAD è necessario andare sul sito www.sceglitù.acli5x1000.it ed individuare il progetto presentato dall'associazione. Parliamo adesso della leggenda della vera croce che arriva a Milano. Expo dedica un omaggio culturale a Piero della Francesca. Piero della Francesca protagonista a Milano all'Esposizione Universale. Il celebre pittore Biturgenze sarà al centro della serata di gala dedicata alla sua figura e alle sue opere all'interno di Toscana Fuori Expo. Si tratta di un evento collaterale alla fiera milanese coordinata da Camera di Commercio e Comune di Arezzo che mette in evidenza il capoluogo toscano e le sue vallate con un focus specifico sulle peculiarità del territorio. Appuntamento con l'artista della Valtiberina Sabato 18 luglio nella splendida cornice dei chiostri dell'umanitaria a pochi passi dal Duomo di Milano. Con la serata che si aprirà con la presentazione del libro di poesie La Conchiglia dell'essere di Patrizia Fazzi. È nato dalla mia passione per la poesia e dal tentativo di trascrivere, esprimere, rappresentare, interpretare in versi quella che è la grandezza dell'opera di Piero della Francesca di cui la nostra città conserva non solo la Maddalena ma lo splendido ciclo della Cappella Bacci. È un ciclo che ha una grandiosità strutturale ma anche etica, spirituale. Non solo la poesia per ricordare la grandezza dell'opera di Piero della Francesca ma anche il documentario, la leggenda della vera croce del regista Alessandro Perrella. È un'opera direi che possa internazionalizzare il territorio perché questi miei lavori, perché c'è stato un precedente lavoro sulla Madonna del Parto è su un canale di distribuzione mondiale 79 paesi che si chiama iTunes è questa distribuzione per cui sta avendo un successo strepitoso e poi questi due lavori li portiamo a Los Angeles all'Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles ad ottobre. Scade mercoledì 15 luglio il termine per presentare la domanda di partecipazione al nuovo Master Universitario di primo livello in sviluppo ed internazionalizzazione delle piccole e medie imprese rivolto a laureati ma anche ad imprenditori e manager professionisti e consulenti. Il Master della durata di un anno è organizzato ad Arezzo dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università di Siena con il sostegno del Consorzio Polo Universitario Aretino. Orchestra Sinfonica Guido d'Arezzo 60 giovani musicisti da tutto il mondo per la quarta edizione della Master Class. Quarta edizione del Master Arezzo organizzato dall'Orchestra Sinfonica Guido d'Arezzo un progetto davvero importante che coinvolge tanti allievi ma tanti stranieri soprattutto. Esattamente, questo è il quarto anno che organizziamo questi Master Class internazionali quest'anno abbiamo studenti provenienti dagli Stati Uniti dalla Cina, dalla Spagna a dimostrazione appunto che il nostro obiettivo è quello di divulgare l'immagine di Arezzo ma anche la cultura e il suo grande patrimonio storico rappresentato da Guido d'Arezzo e l'invenzione delle note musicali. Importanti anche i nomi dei docenti, delle figure di rilievo nel panorama musicale. Senza dubbio, i docenti che sono qui da noi e che hanno il compito di formare e di educare i ragazzi sono docenti di caratura internazionale basti pensare a Stefano Pagliani che è stato per tanti anni la spalla del Teatro alla Scala di Milano che è un po' il motore, il fulcro di questi Master Class ma tutti i docenti hanno alle loro spalle curriculum e esibizioni nei posti più prestigiosi del mondo. Noi contiamo che questo diventi un'eccellenza retina perché la musica, il ligo musicale, è nata da Rezzo con Guido d'Arezzo e quindi noi cerchiamo di valorizzare sia la nostra associazione sia la musica a retina che è importante sia anche il territorio con un obiettivo che è quello di dare dei perfezionamenti a questi musicisti che vengono da tutto il mondo. Dal 18 al 25 luglio Sansepolcro ospiterà la tredicesima edizione di Kilowatt Festival con un ricco programma di danza, teatro, musica, fotografia, incontri e convegni. La cittadina Biturgenze diventerà così un punto di riferimento nel panorama teatrale nazionale dal forte respiro internazionale come ente capofila del progetto quadriennale Bispectative finanziato dall'Unione Europea. Tra gli eventi collaterali si segnala per martedì 21 luglio un importante convegno a cui parteciperà anche Vania Virgili, consigliere delegato per i finanziamenti europei del ministro ai beni culturali Dario Franceschini. E in chiusura la pagina sportiva in un solo fine settimana il BSC Arezzo ha centrato tutti i suoi obiettivi stagionali il traguardo più prestigioso è merito delle ragazze del Mona Lisa Softball che sul campo del forte Atoms Chieti ottengono l'ultima vittoria necessaria per festeggiare l'accesso ai playoff per la promozione nella massima serie un'impresa che ha portato la firma della prima squadra maschile di Serie C a superare per 11-18 a otto la capolista junior Grosseto ed è così balzata in testa alla classifica le ultime gioie arrivano con la squadra ragazzi che vincendo 11-7 lo spareggio contro il Siena ha conquistato l'accesso alle finali nazionali e con lo sport si chiude questa nostra edizione del telegiornale e subito dopo di noi l'appuntamento è con il meteo grazie per la cortesi e attenzione e buon proseguimento con i programmi di TSD grazie per la visione